Per segnalare un ritardo devo recarmi sull'area del registro assenze, selezionare per data, posizionarmi nella data in cui voglio inserire il ritardo, a questo punto specificare l'alunno, la data in cui è stato compiuto il ritardo, la tipologia, l'orario di ingresso, un'ulteriore qualifica dell'assenza, se richiesto, posso inserire delle annotazioni a piacere. Nell'area giustificazione devo inserire la spunta se lo studente ha fornito una giustificazione scritta del suo ritardo. La voce data all'interno dell'area giustificazione mi indica la data in cui la giustificazione è stata consegnata. Dal menu tipo giustifica devo scegliere per quale motivo il ragazzo è arrivato in ritardo in classe. Il motivo deve essere lo stesso riportato sulla giustificazione. Completati questi campi posso cliccare su salva. Apparirà una conferma. Grazie. 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 Grazie.